Qual è la possibilità di ascoltare e sentire? Per passare tutta una serie di cose, innanzitutto ovviamente il racconto, ma anche ciò che si perde dal vivo, cioè il contatto col pubblico, lo si guadagna, sto scoprendo, con un nuovo tipo di intimità, che è anche quella importante per far passare una cosa così ineffabile e così preziosa come la letteratura.